Con Lorenzo Sperotto, palleggiatore della Conad. Lorenzo, questa settimana giocherete di nuovo al Bigi, questa volta contro Aversa. Cosa metterete in campo domenica? Metteremo sicuramente tutti noi stessi, perché è un'opportunità che abbiamo di rigiocare in casa la seconda volta consecutiva e contro una squadra con i nostri stessi punti in classifica. Quindi credo che tutta la squadra vorrà fare proprio il massimo per portare a casa una bella partita, una bella vittoria. Quale pensi sia l'elemento degli avversari che può mettervi più in difficoltà? Penso che sono una squadra di attaccanti e una squadra di buoni muratori. Quindi questi penso siano i loro punti di forza e cercheremo di limitarli il più possibile per rendere il gioco a loro molto più difficile. Con Andrea Gasparini, schiacciatore della Conad. Andrea, domenica arriva Aversa, tua ex squadra. Cosa ti mette di più del loro gioco? Sicuramente loro sono una squadra di ottimi attaccanti e muratori. Dovremmo cercare di limitarli in quel frangente e cercare di non scontrarci troppo contro il loro muro. Sappiamo ovviamente che molto dipenderà da noi. Abbiamo il fattore campo della nostra. Dovremmo metterli in difficoltà con la nostra battuta perché loro un po' soffrono da quel punto di vista. Però sarà comunque una lotta alla pari. Arrivate da una serie di sconfitte, con che spirito affronterete l'incontro? Non dobbiamo pensare a quello, dobbiamo pensare gara per gara. Sappiamo che saranno punti importanti in attiva salvezza e cercare di non farci pesare troppo questo momento negativo e affrontarlo nel migliore dei modi perché è l'unico modo per cercare di far bene.